Alla fine, come sempre, ha vinto il sole con la giornata di oggi che ha offerto agli abitanti della provincia di Macerata lo spettacolo del cielo azzurro a fare da contrasto con il candore della neve caduta in abbondanza nei giorni scorsi. Ma non è stata solo poesia e le 48 ore in cui tutta la provincia si è trovata nella morsa del maltempo hanno lasciato non pochi strascichi, a cominciare dagli incidenti stradali che si sono verificati, l'ultimo in ordine di tempo nella tarda serata di ieri lungo la 77 tra le uscite di Serra Petrona e Caldarola. Fortunatamente non ci sono stati feriti, diversi comunque sono stati gli interventi richiesti a vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri per tamponamenti o uscite di strada dovute al gelo. Le temperature infatti sono scese questa notte abbondantemente sotto lo zero con il ghiaccio che l'ha fatta da padrone assoluto e l'impressione è che sarà così anche per le prossime ore. Ecco perché gli addetti ai lavori raccomandano la massima prudenza soprattutto a chi si dovrà mettere in viaggio ricordando l'importanza di limitare la velocità e soprattutto della dotazione adeguata in termini di pneumatici per percorrere le strade ghiacciate della nostra provincia. Per l'inizio della prossima settimana non si prevedono ulteriori peggioramenti delle condizioni meteo, mentre le previsioni a lungo termine sembrano annunciare nuove nevicate nella seconda metà della prossima settimana.